Per farvi conoscere i nostri negozi Caffitali potremmo usare un testimonial bello e famoso Posso farli provare il nostro... E con lui farvi assaporare l'inconfondibile aroma del nostro caffè Ho detto potremmo No dai, stavolta no Caffitali, ben 8 grammi delle migliori miscele di caffè in un sistema innovativo che ne esalta il gusto Per capirlo devi solo provarlo e oggi puoi farlo con un'offerta esclusiva Caffitali, conta solo... Conto io, conta solo il testimonial Luca Conta solo il caffè